Amici sportivi buonasera, buonasera e bentrovati a Passione. Passione bianco-rossa, la trasmissione dedicata all'FC su Tirol. Questa sera ospite in studio con noi l'attaccante bianco-rosso Gianluca Turchetta, tutto nel massimo rispetto chiaramente del distanziamento. Buonasera Gianluca, bentrovato. Ciao Dani, buonasera a tutti. Ciao, innanzitutto come stai? Bene, 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 dai. Sono contento di essere tornato in campo e questo era importante per me e per la squadra. Contro il Carpi sei tornato in campo tra l'altro dopo una lunga assenza, un'assenza che risale al 27 gennaio scorso, finale di partita in quel di Reggio Emilia contro la Reggiana, poi l'operazione ai legamenti del ginocchio, poi il lockdown. È stato un periodo, diciamo, difficile, impegnativo. Eh sì, un periodo lungo, anche perché stare lontano dai campi per così tanto, e soprattutto per un infortunio per quasi nove mesi sicuramente è stato snervante. Però superata l'operazione, dall'in poi i primi mesi diciamo un po' più di difficoltà dovuti comunque anche a situazioni logistiche per lavorare al meglio in una fase di lockdown e di quarantena. Dopo da lì è stato in discesa, vedevo sempre la meta più vicina ed è arrivato questo giorno e sono stracontento. Senti, tra l'altro ieri sei arrivato a quota 100, nel senso che non vai in pensione come quota 100 pervederebbe, ma è una quota 100 diversa. Sei diventato un centenario, un membro a tutti gli effetti del club 100 bianco-rosso. Questo è un traguardo non di poco conto. Eh no, è un orgoglio sicuramente. Ho iniziato questo percorso sette anni fa con questa società, poi le nostre strade si sono divise, si sono riabbracciate tre anni fa. Sono stracontento di aver raggiunto questo obiettivo e da qui dobbiamo ripercorrere insieme altri traguardi. Due momenti diversi, due periodi diversi. Questa per te è la terza stagione di fila. Prima c'era stato un altro momento. Facciamo un piccolo bilancio. Cosa ti hanno dato questi due momenti nel tuo processo di crescita? Secondo me il primo momento forse era un momento un po' più spensierato. Secondo me spensieratezza direi che è il termine giusto anche a livello mio personale, ma anche a livello di società. Perché stava crescendo, stava costruendo qualcosa. Secondo me non avevamo ancora ben chiaro dove potevamo arrivare. Invece in questi tre anni si è vista proprio la chiarezza nel fare le cose, nelle scelte, nel decidere gli obiettivi e raggiungerli. E porsi appunto dall'inizio dell'anno obiettivi validi che la squadra adesso sta percorrendo e vuole continuare a inseguire. Dal tuo punto di vista personale, qual è stato il momento più bello o i momenti più belli? Personalmente sicuramente, se devo ripercorrere un attimo queste cento partite, sicuramente l'annata del raggiungimento della finale poi persa con la Provercelli è stato un percorso splendido perché eravamo giovani tutti interessanti, gente che poi ha calcato palcoscenici veramente importanti come Giacoponi, come Tiam, eravamo un gruppo solido. Invece per quanto riguarda questo ultimo periodo, sicuramente l'annata con Zanetti dove sono riuscito a segnare 7-8 gol, sicuramente dentro di me è un bellissimo ricordo. Torneremo tra breve a parlare di te, di Gianluca Turchetta. Facciamo un passo indietro e andiamo a sabato. Sabato il Sud Tirol ha giocato a Salò, questa volta in casa della Feralpi-Salò, conquistando un successo importante. Vediamo il servizio confezionato dalla redazione. Il terzo match esterno frutta tre preziosi punti all'FC Sud Tirol nella quinta giornata d'andata del campionato di Serie C. I biancorossi tornano a Lino Turina di Salò, provvisorio campo di casa, fino a fine mese, questa volta però nelle vesti di ospiti della capolista Feralpi e si impongono con pieno merito per 1-0, proseguendo la striscia positiva. La formazione di Stefano Vecchi confeziona una prestazione maiuscola, esercitando una chiara e costante supremazia territoriale contro una squadra ottimamente attrezzata da tempo ai vertici della categoria. A decidere le sorti della sfida è un'azione, al 28esimo della ripresa, su palle inattiva, punizione della sinistra del neo entrato Fink, palle in mezzo in mischia, probabilmente deviata da un giocatore di casa con sfera in rete alle spalle di De Lucia. Un risultato importante per i biancorossi che procedono imbattuti dopo aver interrotto la striscia positiva interna dei Leoni del Garda che non perdevano in casa dal 25 settembre 2019. Eccoci in studio Gianluca, che partita è stata questa con la Feralpi? È stata una partita di spessore, di carattere, perché comunque dovevamo dimostrare prima di tutto a noi stessi di che pasta eravamo fatti, perché andavamo incontro a una squadra costruita in un certo modo, con gente che l'hanno passato, ha fatto gol importanti in questa categoria e l'approccio è stato fondamentale, il proseguo del match, chi è entrato in questo momento, chi entra a secondo tempo, chi entra a partite in corso, ci dà la possibilità di fare un cambio di marcia importante che ci permette poi di vincere le partite. Sentiamo ora il commento rilasciato a caldo nel post-gara con la Feralpi Salò da Mr. Stefano Vecchi. Sicuramente un'ottima gara da parte nostra, siamo stati bravissimi nel primo tempo e forse lì avremmo meritato anche di andare in vantaggio. Poi nel secondo tempo siamo stati bravi sia all'inizio e sia nel gestire un attimo il loro periodo migliore. E poi siamo stati bravi di nuovo noi sia nel concludere, in modo sicuramente un po' fortunoso, ma credo che poi alla fine meritato, e sia nel concedere pochissimo ad una squadra che ha un potenziale offensivo importante. Non a caso era, mi sembra quella che aveva fatto fino ad ora, più gol di tutti. Fin qui la partita con la Feralpi Salò. Prima di arrivare a quella con il Carpi, torniamo a parlare di Gianluca Turchetta. Gianluca, intanto, quanta voglia avevi di tornare in campo? Tanta, troppa forse. Puoi entrare così in maniera, tra virgolette, inaspettata, perché comunque sia entrare dopo cinque minuti, quando comunque pensi di sederti in panchina, avere tutto il tempo per riflettere su quello che puoi fare durante la gara, forse è stato meglio così per me, perché mi sono tolto un po' di peso che sentivo per questo rientro e fortunatamente è andata bene. Visto che sei arrivato a quota 100, abbiamo deciso di farti una sorpresa e chiediamo alla regia di mandarla in onda, poi la commentiamo. Ui, guarda che carambata mi tocca farti. Talento, flauto, i nomignoli si sprecano, giustamente per le tue doti calcistiche. Io posso parlare anche del Gianluca a livello umano, per il rapporto che ci lega, per la bella persona che sei, ovunque sei andato ti sei fatto voler bene, sei diventato quasi ovunque una figura di riferimento, un personaggio per la solarità, per l'educazione, per tutti i valori che ci hanno trasmesso da casa. Penso che alla lunga valga tanto quanto il campo, se non di più. Cena pagata dopo sta sbirinata in diretta. Che dire, posso parlare del nostro rapporto, dell'adolescenza, di quello che abbiamo passato insieme, delle partitelle nel nostro terrazzo, fin da piccoli, con gli amici, con i panni che usavano come barriera, con la mamma che sbroccava, che li aveva appena lavati, con chi aveva i piedi non educatissimi a mettere le reti sopra per non farle andare dal vicino, le partite in parrocchia con gli amici, sempre con quel pallone attaccato ai piedi, inseguendo un sogno, i viaggi avanti e indietro da Cesena, che ovviamente non ci pesavano, che era quello che volevano più di tutti, tu ce l'hai fatta, grande determinazione e carattere, oltre alle dotti, sei innamorato di tali valo calcistico, lo sai, per le qualità che hai, ma ci hai messo una forza di volontà incredibile, so quanto non sia stato facile, io purtroppo mi sono fermato nello step che dovevo fare per questioni ginocchio, infortuni, tu quanto sei stato bravo a spronarmi, nel tempo a non mollare, a rimanere anche in questo ambiente, quindi anche questo, e questo è stato importante, ci ritroviamo anche da due mesi nella stessa società, e che dire, sei in una maturità, e per me è il tuo momento, e vieni, porca miseria, dopo otto mesi di infortunio, so quanto è stata dura, il fatto di non mollare, so quanto sacrificio ci hai messo in questo recupero, è passato tanto tempo, il video calza pennello, che ieri si è rientrato, è stata una gran partita, 100 presenze, questo video è perfetto in questo momento, adesso bisogna, bisogna fare il salto, lo sai quello che penso, qua sei tornato a casa, sei sereno, c'è tutto per fare grandi cose, organizzazione, strutture, bisogna fare il salto che ti manca, tocchiamo ferro, facciamo le corna, con il B, anche con il nuovo stadio, qua bisogna, bisogna prenderti quello che ti meriti, perché lo sai quello che penso, nei tuoi riguardi, quindi adesso è il periodo, bisogna battere il ferro, niente, pregi, ho detti, grandi cose, difetti, ci sono anche dei difettucci, perché martello a tratti, un po' pesantino, quando ti ci metti, però non mi hai pagato, però io, di cose negative, nei tuoi confronti, non posso, non posso dirle, abbiamo tanti aneddoti, dalle vacanze insieme d'estate, con le tante amicizie che si è creato, anche a livello calcistico, tante cose belle, i viaggi fatti insieme, e quindi io, io posso, posso solo, solo parlare bene di te, mi auguro questo video, ti abbia fatto piacere, talento, e niente dai, noi ci vediamo cavolo qui, adesso siamo insieme, nella stessa città, vederci un po' meno, poco, tu parli tuoi cosi, o l'ultima esperienza all'estero, quindi, ci vediamo al campo, dai, solito, nostra vita, un abbraccio, ti voglio, ti voglio bene, ciao Jean. Luca, ti è piaciuta questa carambata? Sì, 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 molto, non me l'aspettavo, sono anche, molto emozionato, anche perché, sentir parlare così, un fratello, comunque, un legamo importante, che adesso ancora, si sta ancora rafforzando, essendo venuto lui a Bolzano, appunto, in questa grande società, è un gran piacere, grazie, lo ringrazierò, sicuramente lo chiamerò appena, appena finiremo la puntata. Senti, lui ha parlato di te, chi ha fatto una sorta di, di identikit, da fratello, e da tuo primo tifoso, parlaci tu di lui brevemente. Allora, lui, lui è molto testardo, ma è molto, ha molta passione, molta passione, molto, crede molto nel lavoro, in quello che fa, e trasmette molto, molto coraggio, è molto più, molto più sanguigno, molto più, molto più impulsivo, e riesce a far trasmettere, quel calore, quel fuoco che ha dentro, anche solo, anche solo guardandolo, io invece sono un po' più riflessivo di lui, e se devo prendere appunto un pregio, quel fuoco che ha dentro, che riesce a trasmetterlo, con uno sguardo, con una parola, penso sia, penso sia una dote, non da poco, soprattutto per un allenatore. Quindi gli facciamo un grande in bocca al lupo, la guida delle giovanili biancorosse. Ha parlato, Federico, anche della tua famiglia, che cosa ti ha trasmesso la tua famiglia? Tu sei figlio d'arte, tra l'altro, quindi, eh sì, fanno parte della quotidianità. Esatto, esatto, siamo cresciuti col pallone in casa, mio padre, mio padre ha vinto lo scudetto col Verona, quindi, quindi, diciamo che ci ha tramandato questa, questa grossa, questa passione per il calcio, e ci ha trasmesso, prima di tutto, prima di tutto, il valore del divertirsi fin da ragazzi, che un pochettino si sta perdendo questa voglia, comunque sempre, sempre di raggiungere gli obiettivi in maniera prematura, oppure di voler arrivare a fare il calciatore, ma purtroppo ci sono degli step che passano da questi valori, che non non comperi, ma li trovi da fin da bambino, e te li deve trasmettere, te la devono trasmettere i tuoi cari. Tra questi, per quanto ti riguarda, andando ad analizzare la tua carriera, non solo c'è il cadere e rialzarsi. Eh sì, sicuramente, sicuramente, perché, perché penso che, che sta alla base di un calciatore, sicuramente, sicuramente per me, gli infortuni sono stati, sono stati abbastanza, abbastanza presenti nella mia carriera, come non trovare squadra un anno, e ripartire dalla Serie D, ma, come ho detto sempre, e a tante interviste che ho fatto in passato, è come ti approccia alla categoria, può essere Sere D, può essere Sere C, può essere Sere B, ma, l'importante è che, quando vai in campo, anche se ti trovi in una categoria, che non ti sembra che ti competa, come può essere i dilettanti, pensi di essere sempre in Serie A, e riesci a mettere sempre, il meglio in campo. Bellissime le tue parole Gianluca, ci fermiamo un attimo, restate con noi, tra breve la seconda parte, di Passione Biancorossa. Grazie a tutti. 1 novembre 1870, il grande incendio di Trento, Rione San Martino, 70 case furono bruciate, 2200 persone persero tutti i loro averi, 20 luglio 1904, il grande incendio di Baldaura di Mezzo, 36 case furono bruciate, 42 famiglie persero tutti i loro averi, i paesi furono ricostruiti, grazie all'aiuto di Tirole Rassicurazioni, Tirole Rassicurazioni, sempre vicini a te. Rieccoci in studio con Gianluca Turchetta, con Passione Biancorossa. Torniamo al campionato, Gianluca dopo la Feralpi Salò, è arrivata la partita con il Carpi, un successo per 3-0, un successo convincente, frutto tra l'altro di una prestazione, come si suol dire, da incorniciare. Sì, un'ottima gara, veramente un'ottima gara, sotto tanti punti di vista, giocavamo contro una squadra che era come noi la sua in classifica, quindi dovevamo affrontarla col piglio giusto, e ci siamo fatti trovare pronti fin da subito, abbiamo fatto una mezz'ora veramente importante, gli abbiamo fatto capire subito chi era su Tirole, cosa voleva fare di questa partita. Andiamo a vedere dunque i riflessi filmati della partita, giocata a Salò, l'ultima in casa, sulle rive del Garda Bresciano per i biancorossi contro il Carpi. È un FC Alto Adige da sballo, quello che veleggia il comando solitario della classifica del girone B, con la miglior difesa e il secondo attacco del campionato, ed è l'unica squadra di tutta la Serie C ad aver finora incamerato 14 punti. E tutto questo con la squadra di Mister Vecchi, costretta a disputare le gare casalinghe di questo inizio stagione, lontano dalla Druso. Il Lino Turina di Salò si è però dimostrato campo decisamente amico, l'Alto Adige vi ha disputato cinque partite ufficiali, pareggiandone una e vincendo le altre quattro. L'ultimo successo è stato il rotondo 3-0 rifilato ieri al Carpi, squadra che fino a cinque anni fa militava in Serie A, nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata. Un match iniziato male con il probabile stiramento che ha costretto Fischnaller a lasciare subito il campo, ma ha proseguito benissimo con il gol di Tait, che all'ottavo gira a rete di testa un bel traversone dalla sinistra di Fabri. I biancorossi continuano a spingere e al 23esimo reclamano inutilmente un rigore per un volo in area di Rover a seguito di una punizione dal limite di Capitan Fink. Ma per l'attaccante l'appuntamento con il gol è questione di pochi minuti. Al 31esimo, manovra prolungata sulla destra con Tait che serve in area carice, la cui conclusione si trasforma in un assist perfetto per Rover, che da due passi raddoppia. La ripresa è ancora l'insegna dei padroni di casa. Al 16esimo, gigantesca mischia in area su azione d'angolo e il portiere Carpigiano che respinge di piedi su Malomo. Due minuti più tardi si vedono gli Emiliani con Bajete che si vede respingere la battuta a rete da Poluzzi di piede. Passano 60 secondi e dopo una serie di batti e ribatti la palla arriva a Fink che manda fuori di poco. Al 39esimo, all'Alto Adige, va un passo dalla 3 a 0 con una potente conclusione di Beccaro che manda la sfera a centrare la traversa. Ma è solo il preludio al gol che arriva poco dopo. Punizione dalla destra e il neo entrato Magnaghi lasciato colpevolmente solo in piena area schiaccia di testa un pallone che Rossini smanaccia quando ormai ha già varcato la linea di porta. C'è ancora tempo per un altro legno questa volta colpito da Semprini in contropiede ma per mister Vecchi può andar bene così. Una partita diciamo così superlativa quella giocata con il Carpi un'altra prova importante che ha dato continuità alla prestazione contro la Feralpi di Salò Gianluca. Sì 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 diamo continuità a questi risultati comunque sia costruiamo tanto concediamo poco e penso che in questa categoria sia importante. Adesso andiamo a affrontare un'altra partita di livello non c'è neanche il tempo di rifiatare e di festeggiare perché questo campionato ha tantissime insidie. Sempre con i piedi ben posati per terra proprio perché ci sono questi insidi. No certo certo non ha senso non ha senso farsi prendere da festeggiamenti. Andiamo a sentire le opinioni di Mister Vecchi dopo il successo con il Carpi. Siamo stati bravi nel finalizzare subito le occasioni che ci sono capitate all'interno di un primo tempo fatto sicuramente molto molto bene dove avevamo soprattutto nei primi 30 minuti diciamo così il grande predominio. Poi il loro allenatore giustamente ha forzato un po' la mano ha inserito qualche giocatore più offensivo e qualche grattacapo ce l'ha dato perché il Carpi comunque quando attacca ha dei giocatori che possono rendere la vita difficile a tutti noi siamo stati bravi a difendere abbiamo rischiato solamente in una situazione dove è stato bravo Puluzzi e poi abbiamo suggellato e è portato a casa con l'altro gol e altre occasioni nel secondo tempo nel secondo tempo forse dovevamo farlo un po' di più perché ci può alleggerire dalla pressione degli avversari poi è anche vero che abbiamo rischiato poco però se riuscissimo a tenere la palla un po' di più nell'altra metà campo faremmo respirare un po' tutti in fase difensiva sicuramente forzato avevo qualche dubbio inizio partita se farlo giocare dall'inizio o lui o Magnaghi assieme a a Rovere a Fisnaller sono partito con i soliti due purtroppo Fisch ha avuto questo infortunio ma sapevo che Turchetta eventualmente anche Magnaghi sarebbe stato pronto per fare una parte di partita 90 minuti magari ancora no però sicuramente ha dimostrato di essere un giocatore che sa giocare e eccoci nel studio Gianluca possiamo parlare di forza del gruppo sì 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 penso che sia penso che sia la parola giusta perché comunque sia il mister ha cambiato qualche pedina e tutti i ragazzi si sono fatti trovare pronti e non è la prima volta che succede vuol dire che comunque c'è coesione c'è voglia di emergere c'è voglia di farsi di fare vedere che ci sono anche loro e ci siamo anche noi e chi ha giocato meno si fa sempre trovare pronto quindi questa può essere solo una forza per questa squadra sentiamo ora le opinioni a caldo di Simone Magnaghi Matteo Rover e di Capitano Anne Sfinca è una vittoria importante contro una squadra che veniva da un ottimo periodo abbiamo avuto poco tempo per prepararla ma sicuramente a livello di atteggiamento voglia e cattiveria agonistica siamo stati molto bravi e adesso dobbiamo ricaricare le pile perché domenica c'è l'ultimo sforzo di questa settimana contro una squadra forte che ambisce come noi a fare un campionato da protagonista io ho fatto il movimento iniziale sulla palla di Elka e poi dopo mi sono staccato e per fortuna Nermi è riuscito a lui voleva metterla in porta però è riuscito a girarla nel secondo palo e mi sono trovato lì un po' fortuito un po' ci credevo su questa palla qui e l'ho buttata dentro penso che abbiamo fatto una buona gara sicuramente una vittoria importante che ci siamo riusciti a dare continuità dopo la buona prestazione che abbiamo fatto col Salò con la Feralpi adesso l'abbiamo fatto anche oggi sicuramente la strada è quella giusta e siamo contenti Gianluca la testa è già proiettata a Padova sì 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 non c'è tempo per altri no non c'è tempo assolutamente già da ieri al viaggio già si pensava già si pensava lì perché poi quando si vince si ha la voglia subito subito di giocare e quindi continuare questo percorso Cosa ti senti di dire in chiusura di trasmissione a tutti gli appassionati bianco-rossi che sono stati costretti fino ad oggi a seguire la squadra in remoto questo in vista anche del ritorno al Druso con la possibilità di avere anche del pubblico sugli spalti ovviamente nel rispetto dei protocolli Eh certo sicuramente si sentono un po' tutti un po' tutti dei leoni in gabbia gli amanti del calcio gli amanti del Suttirol è chiaro che adesso potranno 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 speriamo seguire la squadra dalla prossima settimana anche se in forma ridotta però noi stiamo lottando stiamo lottando per tutti in questo momento grazie grazie a Gianluca Turchetta al quale auguriamo ovviamente altre 100 e altre 100 ancora partite in bianco-rosso contiamo di averti quanto prima ancora qui con noi grazie Gianluca della tua disponibilità grazie a voi tutti per la cortese attenzione e l'appuntamento con Passione Bianco-Rossa e per la prossima settimana alla stessa ora buon proseguimento di serata